Presidente Testa, lei di nuovo in campo, diceva qualche giorno fa, me lo hanno chiesto gli amministratori della provincia di Pescara. Abbiamo fatto diverse riunioni con gli amministratori, con i sindaci del nostro territorio, abbiamo avuto l'idea di, invece di fare una, come ha fatto il centrosinistra, di caratterizzarla politicamente da un punto di vista partitico, abbiamo voluto creare una lista civica che si chiama ASDAC Provincia Prima, fortemente civica, alla presenza di tanti amministratori che hanno apprezzato l'attività della provincia in questi ultimi cinque anni e hanno voluto dare il loro importante peso apporto per la Costituzione e anche per i contenuti. Ritengo che esistano dei numeri, i numeri non possono essere interpretati ma vanno letti. Noi abbiamo spalmato in questi cinque anni oltre 66 milioni di lavori pubblici, parlo di strade, sul nostro territorio, 22 o 23 milioni sono relativi a comuni del centrosinistra, proprio per far vedere che noi abbiamo avuto un atteggiamento oltremodo bipartisan, abbiamo rimesso in sesto tutto ciò che riguardava l'edilizia scolastica, penso al nuovo liceo scientifico di Montesilvano, penso alla nuova sede per l'alberghiero di Pescara, per il settore lavoro e formazione siamo diventati anche dei modelli da seguire, da imitare con delle misure che non erano state mai prese in precedenza e anzi devo dire che il centrosinistra, penso all'ultimo bilancio, abbia tolto molti fondi dalle strade e dalle scuole per metterle nel rifacimento dei campi da gioco, per le aree di culto, per l'acquisto delle opere d'arte, quindi io ritengo che noi siamo stati molto più puntuali e abbiamo avuto una conoscenza più precisa di quelle che sono le istanze che provengono dal territorio.